quando la paura irrompe ci risulta difficile fare una scelta preferiamo scappare evadere le responsabilità o magari dire anche di sì solo per pulirci la coscienza ma potremmo trovarci in una opposta situazione sentirci forti capace di affrontare ogni situazione e dire di sì a ciò che poi non siamo in grado di iniziare o di fare oggi Gesù ci dice che dobbiamo avere il coraggio di dire basta di guardarci dentro nella verità accettando i nostri punti deboli e notando anche i punti forti usiamo entrambi per incamminarci con serietà e costanza nella via della conversione come ti comporti di fronte alle tue debolezze le accetti passivamente o ti impegni nell'essere migliore come reagisci per le tue opere di bene lo di dio o cadi nella tentazione di sentirti superiore agli altri